A me non piace continuare a cantare mentre c'è una persona che sta male, quindi finché non viene che la persona sta bene, che si è ripresa, io preferisco aspettare. Si è ripresa già? Come si chiama? Roberta, stai tranquilla, so che ti sei già svegliata, che ti sei già ripresa e non voglio cantare nel momento in cui il tuo cuore va a tempo con il mio, perché qua su si sentono dei battiti pazzeschi, anche il tuo Roberta. Andiamo a fare un applauso alla roba che si è. Roberta, carosella mia, come si dirà? Picciata mia, ma ti vedo magra, mangiare devi, guarda che per il sedere che ho qua io. Portare il carmono siciliano. Mamma mia. Allora questa sera, visto che Roberta sta bene, noi stiamo bene, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico anche noi, si è rotto ed emozionato il pianoforte, che è quello che utilizzavamo normalmente quando io suonavo nelle cantine.